Ok si è sbloccato Vai più lento Più lento il gioco Più lento Salve cari amici benvenuti e bentornati al video partizionale Oggi amici vi porto un video Dove vi mostro come entrare su whatsapp con la memoria ultra piena proprio all'orlo E' un modo semplicissimo Vi serve un tavolo con la memoria piena e una buona mano Grande Bella rega Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti